Il futuro dell'imprenditoria è sempre più green e parla anche attraverso il linguaggio dell'agricoltura e dell'apicoltura, nel caso specifico di Lisa Tanganelli, giovane imprenditrice rurale della Val di Chiana, che ha deciso di creare il suo futuro all'interno dell'universo dell'agricoltura, unendo così la passione per l'apicoltura e la creazione di una fattoria didattica. Di in famiglia abbiamo un maneggio e abbiamo tutte le stati, tanti bambini che vengono a fare campi estivi e quindi era un'idea per poter dare ai bambini che vengono qui per tutta la settimana la possibilità di rendersi, di consapevolizzarsi e responsabilizzarsi rispetto a che cos'è l'ape, cosa fa l'ape e quanto è importante l'ape al giorno d'oggi. Nella fattoria didattica non sarà solo vista l'ape, però anche l'importanza di tutta quella serie di piante benefiche l'una all'altra e anche appunto a tutti gli insetti per poter arricchire la biodiversità e l'ecosistema di una particolare zona. E per realizzare il suo sogno green nel totale rispetto della natura ma con lo sguardo sempre attento alle esigenze attuali del mercato, sia a livello internazionale che a chilometri zero, ha deciso di partecipare insieme ad altri giovani imprenditori agricoli alle giornate di formazione professionale in agricoltura e al progetto formativo Back in Land, il ritorno alla terra, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, SMEA. Un imprenditore agricolo oggi, giovane, deve prendere in considerazione sicuramente delle capacità maneggeriali e poi sicuramente c'è un'attenzione particolare alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Poi bisogna essere comunque multifunzionali, non basta più produrre un prodotto, bisogna poter dare altri prodotti e altri servizi che si possono dare specialmente facendo rete di impresa tra i vari agricoltori. Ed è proprio dalla volontà di fare rete tra imprese che è già nata una collaborazione con un altro giovane imprenditore e aretino, Marco Bruschi, che ha portato al trasloco in Valtiberina di alcune delle arnie di Lisa. Anche lui è imprenditore agricolo, ha fatto il corso insieme a me e lui fa castagneto da frutto e quindi abbiamo avuto l'idea di poter abbinare le due cose e quindi ho alcune api su al castagno.